Bentornati a tutti. Oggi è martedì, 9 luglio 2024. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Cancro. Venere dolce. Spendacciona. Venere nel vostro segno se la gode e la fa godere anche a voi, bella casa, abbigliamento curato, cucina gourme, ma naturalmente anche piaceri più sottili come belle mostre d'arte, visite guidate e per i vacanzieri panorami da restarci incollati per ore. Qualche discrepanza sul fronte del cuore, specie se in compagnia qualcuno ha fatto breccia. Voi però puntate a un sentimento dolce e avvolgente come il cioccolato che ricopre la ciliegia nel boero. Lui o lei invece disinvolto e vitaiolo preferisce fermarsi a un'amicizia disinibita, senza concedere spazio all'ipotetica fioritura delle rose. Che appunto avrebbe cura di potare prima che rischino di fiorire per davvero. Per vostra fortuna contro le delusioni più cocenti Giove lavora a vostro favore coprendovi alle spalle e così se non potete gustare le delizie dell'amore, potete almeno rifarvi la bocca con amicizie simpatiche, belle escursioni e guadagni extra. Valori indubbiamente prosaici rispetto agli alti ideali della vita ma in vista di qualche acquisto o di un fuori programma. In tasca male non vi faranno, dopo tutto non pesano neppure. L'amore sposa finalmente la pace e la sernità e tutto procederà per il meglio e sotto i migliori auspici. Sarete più attenti alle esigenze del partner e saprete attirare l'attenzione del vostro partner. I single troveranno davvero la possibilità che sbocci prestissimo un nuovo grande amore e che sapranno elettrizzare la persona desiderata. Spese improvvise che metteranno in crisi il vostro bilancio o in alternativa lo intaccheranno sensibilmente. Usate prudenza e astuzio per risparmiare. Un'amica non molto sincera potrebbe crearvi qualche disagio. Siate prudenti. La persona che vi interessa potrebbe avere il cuore un po' affollato. Fare attenzione. In giornata senirete tutto il peso delle vostre decisioni sbagliate per il passato, non recriminate e passate decisamente ad aumentare le vostre risorse ed energie per cerace di cambiare le cose. Particolarmente in amore vi accorgerete che le decisioni prese in passato non erano le migliori. Se avete un'avventura extra coniugale trovate tempo e modo per fare un bilancio della vostra situazione, cercate di decidere se è il caso di portarla avanti e viverla ancora in sofferenza. Oggi avrete buone occasioni per aiutare il prossimo, fate in modo di farlo con generosità e con spontaneità. Se conoscete qualcuno in difficoltà cercate di alleviare le sue sofferenze. Sorridete alla vita, particolarmente oggi, non state giù per nessuna ragione. In fondo presto risolverete alcuni vostri problemi brillantemente. Imparate ad ascoltare l'altro e a non tirare conclusioni affrettate. Al contrario potreste pentirvi di aver preso posizione senza conoscere a fondo il partner. I sogni di oggi potrebbero avverarsi, soprattutto i nati del giovedì faranno sogni che potranno concretizzarsi a breve. Una persona vi attrarrà particolarmente dal punto di vista fisico. Vi senirete coinvolti e attratti. Evitate per oggi posti affolati e rumorosi. Urano, vostro attuale sponsor, in angolo positivo dal segno concreto e robusto del toro vi aiuta ad agire per il meglio, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 17 al 20 di luglio, donandovi la logica e la forza d'animo necessarie per vincere su tutta la linea. Un certo nervosismo e piccole tensioni quotidiane potrebbero quest'oggi non facilitarvi uno scorrimento sereno del quotidiano. Niente di grave, ci vuole ben altro per scalfervi. Un bel marti vi obbliga a non star fermi, ad agire, a risolvere questioni di vario genere, non da ultimo quelle patrimoniali, in famiglia, specie se siete della terza decade. Protagonista del giorno la bella venere, piacevolmente dinamizzata dal sestile di urano che la vuole più moderna, più disinvolta, più disinibita, insomma al passo con i tempi. Cadono tante barriere anche tra i generi e sul sesso, le esperienze si fanno variegate in barba a chi evoca le fiamme dell'inferno. Bigotti, ciascuno fa la vita che crede, con le persone che gli sono consome, unico veto fondamentale non far del male a nessuno, mentre basta guardare quanti sepolcri imbiancati con la faccia da bravi ragazzi vessano, stuprano, uccidono la persona che dichiaravano di amare. Il fronte dell'avere si incanala comunque sull'acquisto, non tanto abbigliamento, piuttosto utensili per la casa, il giardino, oppure musica e tanti libri, saranno i vostri compagni in spiaggia e in cortile, quando vi rilassate tra fiori e uccellini. Coperti alle spalle da giove parafulmine contro i grossi guai, a quelli piccoli, effetto di scelte discutibili, dovrete pensarci voi. Amore ed eros. Romantici lo siete, tuttavia sul fronte del cuore anche voi invocate un giusto cambiamento. Più tenerezza, complicità, apertura e bando ai comportamenti possessivi e compulsivi, lasciando libero l'altro, sia amante che amico, li avrete più vicini. Nulla come un guinzaglio troppo corto fa venir voglia di scappare. Nuovi incontri si aggiungono alla cerchia delle vostre frequentazioni e poiché il fascino non è acqua stasera vi ritroverete corteggiatissimi. Lavoro e denaro. La scintilla creativa oggi vi sveglia di buon'ora. Da un sogno ricevete gli input che stavate cercando, segno che la mente non dorme mai, sta in guardia a captare le intuizioni in arrivo dai famosi archivi del cosmo, dove tutto sarebbe già scritto, ciò che è, ciò che è stato e ciò che sarà. In azienda valido supporto da un collega che lanciando un'idea originale risolve il vostro dubbio amletico. Molte spese vi lanciate da buoni guadagni, la fortuna non si vede ma vi assiste di nascosto. Benessere. Sani e bellocci sempre, oggi in particolare e anche se rischiate di esagerare un po' su vari fronti, dalla palestra alla tavola, il cielo vi protegge contro gli eventuali guai, un passo falso può farvi capitombolare, ma corretto estemporaneamente con una mossa fulminea rimanete in piedi ridendo dell'incidente parato in corner. Per lei, com'è naturale in una società fondata sull'estetica, date molta importanza all'aspetto sempre curatissimo, dal capello, alla pelle, fino all'abbigliamento e alle calzature rigorosamente in nuance. Non dimenticatevi però che si tratta di valori aggiunti, l'essenziale è la bellezza del cuore, l'intelligenza profonda, la dolcezza del carattere capace di andare d'accordo con tutti e di comprendere una visuale anche se diversa dalla propria. Per lui, siete il ritratto del pacifista, propenso a vedere i motivi di accordo piuttosto che quelli di scontro. Volendolo si può sempre trovare un terreno di mediazione, il guaio è che quando ci si incaponisce nessuno lo desidera più. Colore delle emozioni, rosa conchiglia. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 7, finanze, 9, benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo. Grazie. Grazie.